Siamo fatti d'acqua. Il mondo ha una percentuale di acqua decisamente superiore a quella della terra. L'acqua è vita, è svago, gioco, cultura. Attraverso i corsi d'acqua si sono sviluppate le civiltà, i mari e gli oceani. A volte le hanno divise, altre ne sono state il collante. Acqua è cibo e risorsa. Il Water Web Fest, online sui canali web e social Web Salute Bivox, il 27 e 28 gennaio esplora il mondo dell'acqua e le sue utilità e funzioni a 360 gradi. Sarete accompagnati in questo viaggio ideale da esperti che per le diverse competenze approfondiranno i temi legati all'acqua. Buona visione!